Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi, sicché la femmine egli è incusine, avevano le sorrisi e l'uomo che ha letto al cortile a sentire le sorrisi così, va sull'acchiata e tutte sversate e ha veduto un sorrisino. Allora va in ferramenta e ha chiuso i cidelli per chiamare le sorrisi e mette le cidelli in cucina. Noi si è partita anche una cicciuta e si vede che ha mangiato una pastiglia anche la cice e stava male, no? Sì, ha chiamato il veterinario e il veterinario le ha tirate di qua duzinte euros al veterinario. Buongiorno, se hai contato, se hai provato a contare altri, nessun scandalo. Né il berlade femmine per un nessun risulto né i duzinte euros per chiese. Per me alvenne in davanti un altro mondo. Buone giornate e buone vite. Buone giornate e buone giornate.